E' stata incaricata come progettista unico di questo straordinario e importante progetto che dovrebbe costituire l'armatura fondamentale del trasporto locale e ha ottenuto questo incarico non così con semplicità, ma avendo vinto ben otto ricorsi in tribunali o amministrativi o nel Tribunale Civile di Venezia. Dopo questa serie di decisioni dei tribunali la regione si è arresa e si è affidata un incarico. Le attività si sono avviate, sono stati presentati i progetti, sono stati finanziati, è stata avviata una prima fase di attività che ha visto la costruzione di opere nel triangolo sostanzialmente Mestre Venezia-Castrofranco-Padova che sono ormai pressoché terminati, ci sono altri finanziamenti che sono richiesti che dovrebbero essere in arrivo ancora prossimamente, tuttavia dopo quella ondata di iniziali vicende giudiziari e la cosa non è finita lì, ma via via negli anni si sono verificati altri momenti di tensione e di incomprensione che si sono associati in tre transazioni e poi quando non è stato possibile arrivare a soluzioni condivise in tre arbitrati. Sottolineo che anche tutti questi ulteriori giudizi arbitrali hanno visto sempre la totale indiscussa vittoria di NET, l'ultimo è di poco tempo fa e la Regione è stata pesantemente condannata, sono state riconosciute tutte le ragioni di NET e metto in evidenza che in modo abbastanza raro e inusuale la Regione è stata condannata non solo a pagare ciò che NET ha richiesto, non solo gli interessi di Mora che comunque comportano rilevanti importi, non solo dei danni che abbiamo subito ma anche tutte, dico tutte le spese di arbitrato proprio perché non ha avuto successo neanche una minima frazione di contenzioso e questo è abbastanza raro. Comunque in termini economici è piuttosto pesante la questione. Certamente, la nostra richiesta era di circa 25 milioni a cui si aggiungono appunto danni e interessi che si va a finire così intorno a 30 milioni, poi ci sono altre partite che non sono oggetto di arbitrato ma che rappresentano i crediti della normale attività di cui speriamo che sia anche riconosciuta l'esistenza e che sia provveduto al loro pagamento. Tuttavia, nonostante questa sonora sconfitta e questa squillante vittoria di NET non c'è nessuna intenzione, sembra, di adempiere. Pare che ci sia intenzione di fare i nuovi ricorsi e di continuare forse per decenni questa chiare novella di battaglie giudiziarie con gli esiti che secondo me non si potranno discostare da quelli che ci sono stati fino ad adesso. Scusi, per rimanere nell'attualità, questo incontro giunge proprio all'indomani di un protocollo d'intesa che è stato siglato a Roma a proposito dell'alta velocità. Siccome l'SFMR si incrocia in mente con un discorso come quello dell'alta velocità, in che misura momenti come questi possono andare a collidere con quella che è la vostra battaglia? Noi abbiamo questo incarico, non è mai stato messo in discussione in tutti gli atti giudiziali, l'SFMR non può che essere di supporto e integrato col sistema ad alta velocità, sono due sistemi complementari rispetto ai quali l'SFMR rappresenta il servitore delle stazioni di alta velocità in modo da portare i viaggiatori che hanno bisogno di questo servizio a lunga distanza e raccoglierli per portarli alle destinazioni nel territorio del Veneto, quindi l'esigenza di totale coordinamento, di totale integrazione va perseguita in futuro come si è cercato di fare anche in passato.